bella raga benvenuti finalmente in questo nuovo video come va tutto ok passato bene le vacanze non so voi quando vedrete questo video comunque prima di partire come sempre lasciate like se volete lasciare like se non volete lasciare like non lasciate like se volete iscrivervi fatelo se non volete farlo non fatelo se volete seguirmi su instagram questo io ci terrei a obbligarvi a farlo però anche qua fate quello che volete siamo qua nuovamente con un weekly vlog ovvero un recap della mia settimana che parte in maniera abbastanza strana perché vi chiedo scusa per lo schifo che c'è in questa stanza però come potete vedere c'è un bel po di roba in giro tra cui là ci sono dei cerchi enduro per il tm in realtà non sono dei cerchi completi ma sono solo le lame blu quelle originali che aveva il mio 300 e dato che mi segue su instagram lo sa ma avevo accennato qualcosa anche in qualche video ogni tot metto in vendita tutto quello che non mi serve su instagram ho trovato un ragazzo qua della zona che è interessato all'acquisto di ste cose sempre che io riesco a farli fuori e poi dato che questo ragazzo ha la moto ma non mi sembrava il caso di farlo venire qua in moto a prendere dei cerchi e non abita troppo lontano da casa mia li porto io direttamente ecco qua i cerchi tirati fuori dallo sgabuzzino adesso sfrutto la macchina di mia mamma perché è dietro per cui vado con la sua andiamo a portare sti cerchi a sto ragazzo ma cioè voi rendetevi conto di che persona sono sono un cazzo di corriere a posto raga cerchi consegnati e adesso ritorno a casa che devo fare un po di cose ma raga ma vogliamo parlare di quanto è bella la mito costovrà ci rivediamo direttamente domani e sarà una giornata super power perché inizierò con le prime modifiche all fs4 e mezzo purtroppo attilio non stava troppo bene con la schiena però piano piano si è un po ripreso ha detto che farà lo sforzo per cui domani andremo in officina a montare questi primi pezzi per questa settimana sono super carico perché ho comprato un bel po di attrezzatura nuova e ho comprato anche un sacco di cose che sono cose che magari uno non ha in casa però vabbè non voglio dire niente lo scoprirete più avanti nel video non finisce qua la mia giornata dato che ho aperto instagram mi sono ritrovato un po di gente che vuole comprare i pezzi che ho in giro quindi ho venduto anche il telaietto me l'hanno già pagato e mi hanno già pagato anche il mozzo originale del 300 hanno utilizzato di blu per cui niente vado a prendere delle scatole impaccato tutto e spedisco queste due cose mozzo qua dentro pronto per essere spedito bello imballato stessa cosa per il telaietto io spero che voi sappiate che io ho comprato un furgone nel caso questa parte dovrò censurarla comunque ho caricato la moto sul furgone ho caricato anche le due nuove modifiche per l'fs ci rivediamo domani buonanotte buongiorno come vedrete dalla mia faccia io sono rincoglionitissimo sono anche in ritardo finalmente posso farvi vedere il mezzo nuovo prima di partire però devo stringere la moto dato che l'avevo montata ma senza stringere le cinghie altrimenti le furcelle si rovinano se stanno troppo tirate per troppe ore possiamo partire in realtà ieri non vi ho detto che era domenica per cui oggi chiaramente è lunedì e iniziamo la settimana con il furgonello ho dimenticato la luce dietro accesa porco bene raga io sono arrivato da atti adesso chiaramente noi ci facciamo il nostro bel video cerco di non spoilerarvi troppo ci rivediamo più tardi bene raga video finito carico la moto sul furgone e ci rivediamo a casa siamo buongiorno raga con questa tazza bellissima so che me la state invidiando ieri non ho più filmato niente perché sono tornato a casa ho montato tutto il video che abbiamo registrato da attilio e ho passato una notte di merda ho avuto anche la febbre per un momento in questo periodo si stanno alzando un sacco i casi per cui ho fatto anche un tampone così negativo adesso sto meglio non so che cazzo mi è successo stanotte febbre maldigo la tosse adesso sembrerebbe sparito tutto e sto bene oggi devo fare un paio di cose dovrei registrare il video in cui vi presento il furgone nuovo adesso sono le 7 10 vedo di riposarmi un pochino e poi vedremo cosa farò raga contro ogni aspettativa mi sono arrivati i pacchi che stavo aspettando in realtà non tutti dato che purtroppo un pacco ho visto che arriverà domani ma vabbè lo apriremo domani questo era quello che stavo aspettando senza altro di più ma anche il contenuto di questo non scherza vi metterete a ridere probabilmente ma fa niente partiamo prima da questo che arriva da amazon via sto imballaggio qua cosa c'è all'interno di questa scatola questi due adattatori per i microfoni il sugru che è una pasta modellabile che poi si solidifica capiremo poi il perché l'ho presa rimanendo in tema tecnologia questo è il microfono che costa la bellezza di 60 euro che è sempre il solito microfono che ho utilizzato nei miei motovlog e dato che ho preso il casco nuovo sto rifacendo il setup tecnologia a parte passiamo a delle cose un attimino un po più divertenti ci sono degli attrezzi che nel corso della vita di una persona sono quelle tipiche cose che devi sempre chiederle in prestito alla gente perché non le hai mai oppure magari non puoi fare il lavoro fatto bene come vorresti perché non hai questa determinata cosa quindi partiamo con una bellissima rivettatrice nuova ci sono dentro anche un po' di rivetti per un po' di lavori sono a posto altro attrezzo che mi serviva e che non avevo ho deciso di prendere un trapano barra avvitatore con un bel po' di bussole un bel po' di attrezzi innanzitutto vi dico che vi lascerò i link di tutte queste cose in descrizione anche se se volete aspettare ad acquistarle perché io le ho prese perché erano in offerta così le recensioni ci stavano però magari se volete che le testo prima io al posto vostro evitate magari di spendere dei soldi per cose che fra sei mesi fan cagare ok dai vi faccio sapere com'è facciamo sparire queste cose dato che per l'appunto ho preso il casco nuovo ho preso i microfoni eccetera eccetera ho ordinato la nuova gopro hero 10 io attualmente ho sempre registrato con una 8 e con una 5 ma volevo fare un upgrade e dato che questa era abbastanza di sconto dato che ho venduto un po' di roba in garage anche se in realtà non è vero perché quando l'ho comprata non le avevo ancora vendute ma vabbè devi andare di là no in realtà sto fingendo estremamente ma mi penso che mi stia salendo la febbre di brutto andiamo a spacchettare fighissimo l'astuccio qua riutilizzabile bam cavo classico usb usb c per la ricarica adesivo curvo una bella vite dato che non ne abbiamo abbastanza la batteria ecco questo penso sia uno dei motivi veri seri per il quale ho optato per questa gopro nel senso che è molto più grande rispetto a quelle di vecchia generazione e dovrebbe durare un bel po' di più andiamo a vedere sta gopro prima di accendere definitivamente questa vorrei andare ad aprire la mod nuova è lo strumento che ci permetterà di collegare i microfoni che avete visto nell'unboxing di prima inseriamo la nostra gopro in questo modo devo dire che è abbastanza grandina hero 8 e hero 10 continuo a chiedermi quando torneranno a fare le hero session ma penso mai adesso vediamo se ci sta sotto al casco più che altro qua c'è il casco nuovo quindi adesso direi che vado a montare tutto l'accrocchio questa volta utilizzerò una tecnica che non ho mai usato ovvero andrò a utilizzare il sugru siccome l'attacco della gopro è curvo però comunque non abbastanza curvo per la superficie di questo casco utilizzerò un po' di questa pasta per andare a fare un attacco fatto con i controcoglioni di norma noi utilizzeremo l'adesivo della 3m che in realtà andiamo a togliere sempre che io riesca a toglierlo dobbiamo avere la nostra placchetta qua praticamente senza niente prendiamo il nostro sugru lo scaldiamo un pochino con le mani andiamo a vedere un po' che cazzo combiniamo io in questo momento lo faccio con la gopro montata così almeno capisco bene l'angolazione poi che gli sto andando a dare e ora prendo altro sugru e gli faccio un po' via tutto il profilo veramente c'ha un odore che è qualcosa di nauseante vedremo un po' se terrà o se sono tutte leggende adesso dovrò aspettare appunto le 12 ore e domani andremo a fare tutto quanto il cablaggio dentro del microfono e vediamo se è venuto fuori un bel lavoro mamma mia raga io sto veramente male continuo a non avere la febbre ma la sento tantissimo proprio adesso mi sdraio sul divano e penso di collassare male raga olè sono fottutamente positivo la roba divertente che non è per un cazzo divertente è che fra 10 giorni è il mio compleanno e io per 10 giorni devo stare in quarantena adesso devo anche trovare una soluzione per i video perché non ne ho abbastanza pronti per cui domani dovevo registrare un video in cui vi presento il furgone niente lo registrerò da solo qua sotto casa mia vi aggiorno sulle mie condizioni più tardi dai buongiorno raga spero non vi dia fastidio che rimango in pigiama però non ho buone notizie nel senso che oggi sono andato a fare un tampone serio e sono positivo confermato niente quarantena per 10 giorni va a fare mi è arrivato un altro pacco delle cose che stavo aspettando ieri quindi adesso andiamo a vedere un po' il contenuto come potete vedere ho deciso di prendere questo tre piedi nuovo per la macchina fotografica dato che il mio purtroppo ha pochi mesi ma si è rovinato dato che le avevo finite ho comprato un bel pacco di fascette vi lascio comunque il link anche di queste cose in descrizione sono cose abbastanza utili kit di guaine termorestringenti anche queste fa sempre comodo averle in casa e infine dato che ho solo una batteria per la gopro ne avevo prese altre tre buongiorno raga purtroppo ieri non ho più filmato perché sono stato abbastanza male per via di sto cazzo di covid mentre oggi invece sto da dio è giovedì e domani tra l'altro sul canale uscirà il video in cui mi ha fermato la polizia e mi chiede che lavoro faccio io ho dovuto dire lo youtuber nel caso non l'aveste visto vi consiglio di andare a vederlo prima di continuare con questa giornata vi volevo far vedere questa felpa di 24 7 fast life che ha la particolarità di essere un fottutissimo passa montagna poi adesso col covid perfetto il programma di oggi è quello di prendere un po' tutte quante le cose che devo vendere e farò delle storie in evidenza su instagram così che magari la gente che non vede le storie in 24 ore magari poi va sul profilo e dice Ivan ha inventato queste cose allora mi scrive senza farmi perdere tempo magari dopodiché ci metteremo a sistemare il casco ebbene questo è un mini set che ho allestito per fare le foto ai pezzi che ora vado a mettere in vendita c'è un bel po' di roba ci rivediamo fra poco minchia raga sto scoppiando non pensavo di avere così tanta roba da mettere in vendita giuro adesso devo trovare il modo di pubblicare tutte queste cose troppa roba ciao bene proprio domani vedrò di mettere in vendita anche tutte queste cose qua veramente c'è troppa roba raga è un magazzino sto posto adesso mi sono lavato mi sono impigiamato tutto e stavo pensando un po' a cosa fare per quanto riguardava la vendita di pezzi non so se fare delle storie in evidenza non so se fare un profilo affinché la gente possa scrivere direttamente lì adesso raga passiamo al montaggio del microfono sul casco ecco qua il casco nuovo con la GoPro montata vedete raga là sotto c'è il sugru probabilmente avrei potuto fare un lavoro un po' più bello però devo dire che è perfetto funziona benissimo è tutto attaccato perfettamente per cui in realtà ci sta sono soddisfatto adesso andiamo a mettere il microfono all'interno del casco quindi facciamo fare tutti i vari giri allora ve la spiego abbastanza easy cosa dobbiamo avere per fare i motovlog vi parlo di GoPro raga ovviamente nel mio caso utilizzerò la mod anche se potremmo andare ad utilizzare questo adattatore però vedete che è una bella rottura di cazzo è abbastanza ingombrante abbastanza scomodo e nella maggior parte dei casi da abbastanza problemi quindi io ho optato per utilizzare la mod dopodiché abbiamo bisogno del nostro microfono oltre al microfono serve anche questo adattatore dietro la mod abbiamo il nostro jack per il microfono facciamo passare il microfono qua dietro chiaramente raga il metodo che vi sto facendo vedere è il metodo che utilizzo io poi ce ne saranno altri mille voi fate come volete se non sapete da cosa partire questo potrebbe aiutarvi io solitamente il cavo lo metto circa in questa posizione così da avere vedete questo agio per poter muovere di conseguenza la GoPro poi un'altra cosa che faccio è quella di svitare e faccio passare praticamente qua sotto parte del cavo dopodiché vado a riavvitare vi posso dire che ho fatto questa cosa tante volte il cavo non si è mai rovinato non si è mai pizzicato non vi deve svolazzare in giro e non siete obbligati a mettere quintali di scoccia poi facciamo passare il microfono sotto alla mascherina adesso togliamo l'imbottitura e facciamo passare il microfono all'interno avremo tutto questo cavo qua che va là in giro inutilmente lungo quindi la cosa che vi consiglio di fare io è di avvolgerlo qualche volta su se stesso e poi con del nastro io c'ho questo qua grande però voi utilizzate quello piccolo se lo avete andiamo a bloccarlo poi raga o se avete metodi migliori o cose fateci sapere nei commenti dopo che abbiamo fatto questo lavoro andiamo a passarlo praticamente in questo modo dovete ottenere una cosa di questo tipo e fate passare il microfono qua sotto praticamente dove c'è il bottoncino qua in cui si attaccherà poi l'imbottitura abbottoniamo l'imbottitura e in questo modo noi avremo il nostro bel microfono che entra dentro nel casco e ci sbuca fuori qua sotto spero di esservi stato utile vedremo un po' quando guarirò da sto cazzo di covid e potrò uscire in moto testeremo un po' il nuovo setup ma penso che a qualità ci siamo mi sa proprio che io adesso vado a dormire ci rivediamo domani con un'altra giornata improvvisata siccome sono chiuso in casa in quarantena ciao buongiornissimo raga lo so che sembro un criminale faccio ridere però cioè fa freddo sono riuscito a registrare il video del furgone nuovo purtroppo senza nessuno da solo isolato in quarantena in casa seduto fuori nel mio giardino però non è uscito neanche un bruttissimo video però devo fare la foto al furgone per fare la foto della copertina e il video uscirà questo lunedì per cui fra tipo tre giorni dato che oggi è venerdì è la prima volta che riesco a registrare, montare e fare la foto della copertina tipo subito e a caricare anche il video vado a fare la foto foto fatta adesso mi metto a fare effettivamente la copertina con photoshop mettiamoci all'opera non lo so non mi convince me la sto ragionando adesso valuto un po' come fare prima però di finirla tiro giù un po' tutte queste cose qua e capisco cosa c'è da vendere effettivamente e cosa invece posso tenere queste qua chiaramente sono cose che non devo vendere queste sono le faccette che ho appena comprato questo è l'avvitatore termone stringenti rivettatrice cacciaviti e robe punte per il dremel dremel pistola termica insomma un po' tutte quelle cose che vi dicevo che fa sempre comodo avere in casa per fare i lavori fatti bene senza stare a impazzire adesso vado ad aprire tutte queste scatole cioè guardate ragazzi i tamponi nuovi di pacca per il 300 non li ho mai montati questi tappi qua questa raga in pochissimi se la ricorderanno chi è che se la ricorda? anche questo nuovo troppa roba bene ho una bella e una cattiva notizia la bella è che ho finito di scegliere quali sono le cose da vendere la cattiva è che è solo quello scatrone qua qua c'è lo scarico original del K ho deciso di tenerlo qua ci sono tutte le parti del 701 la del KTM per cui niente ho selezionato un po' di cose del 300 che quelle proprio non le userò mai più volevo già andare oggi a fare le foto onesto non ho tanta voglia per cui mi sa che vado domani a me ne occupo un'altra giornata devo ancora scegliere se fare la pagina Instagram o le storie ma penso pagina Instagram buongiorno ragazzuoli ieri alla fine ho optato per andare a dormire però oggi finalmente ho fatto qualcosa di produttivo ovvero ho dato il via alla pagina Ivan Giussani Ricambi trovate prezzi trovate informazioni ah e tra l'altro regalerò ai primi 30 tipo questi portachiavi non ho ancora in realtà pubblicizzato la pagina in questo momento anzi è privata adesso vado a fare le foto alle cose rimanenti ok bene abbiamo di nuovo il nostro set foto adesso metto in vendita tutte queste cosine qua adesso niente metto il profilo pubblico e dopodiché inizierò a rispondere a tutte le varie persone vediamo se riesco a vendere qualcosa rieccomi allora sta andando discretamente bene ho venduto già un bel po' di cose non è che pretendo dall'oggi al domani di vendere tutto però comunque sto già vendichiando un po' anche perché devo capire se i prezzi commesso sono onesti o no se volete dare un'occhiata alla pagina Ivan Giussani Punto Ricambi datemi qualche consiglio non ditemi che la spedizione costa tanto perché non lo decido io non ho un contratto con un corriere sono un privato io spero che questo video vi sia piaciuto mi spiace per questa situazione covid spero non sia stato noioso come video spero di avervi intrattenuto magari spero anche di avervi dato qualche idea per qualcosa da fare in quarantena per non annoiarvi come al solito se volete lasciare un mi piace se volete iscrivervi al canale e se volete seguirmi su instagram a me fa sempre piacere ci rivediamo in un prossimo video bella